Io torno da Keito perché poi riferendomi a quel periodo storico che lui frequentava la curva ci fu anche un episodio che Sergio Cragniotti aveva praticamente tesserato per la Lazio Lilian Turam, era praticamente un acquisto fatto perché poi conosciamo tutti i rapporti che c'erano tra lui e Calisto Tanzi, Turam aveva praticamente, mancava solo la firma con la Lazio, solo che poi lui rifiutò di andare, di vestirsi di bianco celeste perché poi, proprio perché la curva nord era orientata, per quanto riguarda un determinato peso politico, anche se poi, perché bisogna anche essere onesti, poi tu hai frequentato gli irriducibili in quel periodo, andò una delegazione di capi ultras della nord a trattare con lui, gli hanno anche detto Lilian non ci sono problemi, tu puoi stare con noi, non ti facciamo nessun coro e alla fine però lui non volle venire perché comunque aveva identificato la curva della Lazio come una curva di estrema destra. Guarda, ti posso raccontare, ti posso raccontare un aneddoto che di quella delegazione che conosco bene i componenti, in realtà dovevo far parte pure io, pensa, e non ho potuto perché avevo altri impegni, proprio, me l'hanno proprio chiesto come persone, per rafforzare diciamo il concetto che evidentemente non è che la situazione fosse proprio così grave, parliamo degli anni 2000 perché era più grave qualche decennio prima, se vogliamo insomma, io lo ricordo bene, conosco le focce, insomma, ricordo tutto, non ci sono potuto andare, non so quanto avrei potuto spostare la sua decisione, poi io Durama l'ho incontrato anni dopo, in un'occasione diversa, insomma, di lavoro mio come giornalista e parlavamo proprio di questa cosa, no? Guarda che, sai che ci siamo, ci siamo mancati per poco perché, non mi vuoi dire, so che hai detto queste cose, ma guarda che non è esattamente così, fu insomma una bella, bella ghiacchierata, parliamo due ore, eh, su questa cosa qua, purtroppo l'aveva già smesso, magari l'avrei anche convinto, a distanza di anni ti do la colpa di non avere influito, pensa che coppia difensiva sarebbe stata connessa? E purtroppo per una serie di circostanze non ci sono potuto andare a Parma, però l'avrei fatto volentieri, ti ripeto, anni dopo ho avuto il piacere di parlare con lui, che oltre ad essere un fortissimo giocatore, anche una persona di una grandissima cultura e intelligenza, e, alla fine, diciamo che un, 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 siamo riusciti a trovare un compromesso, facciamolo così, che se ci fosse andato a dare probabilmente sarebbe pure venuto Alassio, infatti mi è stato un grande, eh, oggetto di rammarico, no, proprio che lui non è venuto e magari venisse, però, mh, sì, la, chiaramente all'epoca la percezione di quello che era la curva di Alassio, ma non è solo quella di Alassio, perché se vogliamo parlare, insomma, riconosco, insomma, le, le varie tiposerie, con, eh, quella del Verona, anche in parte un po', abbiamo, l'amico Salvatore che è dell'Inter, insomma, quella di dare la curva dell'Inter si sa benissimo. L'Ascoli. Ascoli, eh, pure San Benedetto del Tronto, cioè, guardavo recentemente delle cose, ho scoperto che pure c'è una parte da difusire il Palermo, cioè, ehm, le curve in milioni massime a un certo punto sono, eh, almeno una frangia politicamente, da una parte o dall'altra si sono schierate, sono sempre state schierate, mh, eh, chi più, chi meno, chi in maniera più eclatante, chi in maniera meno eclatante.